allora buongiorno buongiorno a tutti eccoci qua il dottor Max in piena forma a dir la verità non è che sia in piena forma oggi comunque va bene nello stesso dunque sono al gran restaurant a zona apposta del Salam perché più tardi vado a Zanzibar a trovare anche Franco e oggi naturalmente saluto tutti oggi facciamo un intervento credo magari stringato però piuttosto importante il quale vi devo fornire un aggiornamento a tutti i clienti attuali di Avesta soprattutto e ai clienti futuri di Avesta perché io ovviamente sto andando avanti e sto osservando quello che sta succedendo sul mercato allora la volta scorsa abbiamo visto che in gran parte delle banche centrali dell'est e anche molte della diciamo della zona più est dell'Europa che comunque fanno fanno parte dell'Europa stanno comprando oro ed è a mio avviso stanno comprando molto più oro di quello che ci dicono ecco c'è stato un grosso shift no quello che si dice un grosso cambiamento proprio recentemente credo immagino con l'impulso dato dai Briggs eh che hanno parlato ripetutamente di ritorno al gold standard eh per cui negli ultimi proprio posso dire tre o quattro mesi sì hanno cominciato anche giornalisti come l'articolo che ho letto sabato scorso di un giornalista molto molto accreditato un ragazzo che mi piace molto perché è sempre molto ponderato in quello che dice e documentato molto e che anche lui sostiene ha proposto questa cosa cioè che anche probabilmente le stesse banche centrali non dico quindi europea diciamo così la stessa federa riserve senza dire niente piano piano stanno orientandosi per un ritorno al gold standard che probabilmente non può essere soltanto gold oro è un ritorno allo standard dell'oro no? Cioè di ricollegare le monete che in questo caso non saranno più digitali ma saranno fiat ma saranno digitali a una riserva aurea va bene? Allora questa operazione secondo me la direzione è questa qui verso la quale stiamo andando ecco perché è importante questo punto perché se questo quest'analisi che faccio io no? è corretta vuol dire che il prezzo dell'oro aumenterà molto di più nel breve sicuramente rispetto al prezzo dell'argento e questo potrebbe creare un pochettino di problemi al discorso switch pilot però ricordo bisogna stare tranquilli avere pazienza io vi dico le cose come le vedo le vedo non dobbiamo assolutamente drammatizzare perché prima o poi prima o poi anche questo benedetto ciclo no? della seconda fase del ciclo completo si chiuderà allora detto questo però è mio dovere prendere dei provvedimenti no? a riguardo perché? perché io ho persone che mi contattano in questo momento mi chiedono le cose voi sapete chi mi segue sa bene che io ero molto contento del Royal Class del programma diciamo originale chiamiamolo così che promuoveva che aveva Ovest e poi è stato in parte sostituito dal programma Taglia allora quello che facciamo è questo prendiamo un respiro di sollievo e a tutti coloro questo è un messaggio soprattutto ai clienti nuovi e ai vecchi che non hanno ancora che sono ancora in regime diciamo così di Royal Class che per tutta una serie di ragioni non hanno voluto fare l'upgrade delle taglie va bene alle taglie allora a questi soggetti soprattutto quelli nuovi io proporrò come diciamo inizio per l'apertura a conto di fare un Royal Class anche perché in questo caso si prende tempo se poi si vede che va tutto bene il prossimo anno non si può sempre fare l'upgrade alle taglie cosa invece che non si può fare alla rovescia cioè se uno apre direttamente le taglie poi dopo non può tornare al Royal Class ecco quindi non si perde niente in termini e comunque si risparmia sapete si paga un attimino di più l'oro però si risparmia il sul deposito l'unica ovviamente le condizioni sono quelle che conosciamo cioè si può aprire un Royal Class facendo un investimento minimo diciamo di 30 si può tirare anche a 25 però ricordiamoci che l'investimento originario sarebbe di 50 poi Augusta ce l'ha concesso a noi per l'Italia di 30 ed eccezionalmente lo può accettare anche con 25 mila euro in questi casi non si paga l'apertura conto va bene quindi d'ora in poi di qui fino alla fine dell'anno per tutti coloro che mi contatteranno per valutare la possibilità di aprire un conto con la Vesta io seguirò questa impostazione qui che secondo me è quella più logica e di maggior buonsenso diciamo così va bene detto questo nel fuori onda parlavamo anche di un'altra azienda con Irene che non so se il prossimo sabato quando io presenterò inviterò su questo canale e uno dei rappresentanti farà la presentazione quello di cui parleremo sarà legato al riciclaggio della plastica quindi è più una cosa collegata interessante comunque da parlarne chiaro più collegata al discorso fondazione no fondazione dottor Marx Foundation quindi magari potrebbe anche essere trattato il mercoledì l'argomento però siccome bene o male si parla di investimenti e si parla di investimenti parliamo nel sabato la domenica di massimo parliamo il sabato di queste cose va bene allora è una cosa molto interessante che però ha alcuni aspetti che devono essere chiariti bene ancora perché sapete che io voglio ho una mia impostazione di base voglio mantenere una certa coerenza senza contraddizioni sapete quello lo studio che ho fatto e quindi tutti conosciamo il grande reset di tutti questi problemi che possono essere collegati alla borsa bisogna essere molto cauti nell'investimento detto questo adesso cambiamo un attimino di nuovo il discorso e vi ricordo la raccolta che sta facendo la Exelio che è la divisione internazionale della Helio il link il rappresentante in questo caso è Claudia Brandoni che conosce ormai tutti la raccolta sull'oro è andata molto bene adesso c'è quella sull'argento molte persone mi chiedono cosa posso investire non so dove mettere i soldi allora vediamo di fare un riordino di tutto la prima cosa che qualsiasi consulente finanziario vi può dire e questo sono perfettamente d'accordo è quello che i soldi vanno bene o male investiti mai tenerli sul conto corrente lì senza fare niente perché questo qui oppure anche non sul conto corrente anche una cassa di sicurezza questo è l'errore peggiore che possiamo fare perché l'inflazione è calcolata 7-8 ma forse anche più del 10% all'anno voi capite in 5 anni perdete 5 almeno 40% dei poteri di acquisto questa è la cosa sicuramente meno intelligente che si possa fare certo poi bisogna adesso guardarsi in giro e stare molto molto attenti quando si fanno poi operazioni di investimento siccome nel caso del silver si parla soltanto di 3.000 franchi svizzeri corrispondenti a circa 3.200 euro il rischio è molto contenuto a mio avviso l'azienda è un'azienda bene o male questi tre ragazzi hanno dimostrato che insomma sanno fare il proprio lavoro spero che mantengano la linea comunque che hanno mantenuto fino adesso anche se magari fanno un marketing un attimino forzato eh io l'avrei fatto in altra maniera però siccome loro stanno avendo un grande successo io non sono nessuno hanno ragione loro io sono un po' alla vecchia maniera come stile capite adesso e purtroppo il marketing è fatto push 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 come si dice in America quindi ti devono sempre forzare le cose ti devono dire che farai soldi ti devono dire e purtroppo funziona in questa maniera qui però mi sembra che conoscendo anche Claudia sapete no la stima che ho per lei mi sembra che in linea di massima è certamente una cosa che potete considerare voglio dire comprare uno due massimo tre silver sharing pack è sicuramente diciamo una cosa che si può fare tutti coloro che sono interessati mi possono contattare oppure possono contattare direttamente Claudia Brandoni se hanno già il numero farebbe prima meglio che mi contattassero me così facciamo un lavoro un attimino più ordinato no? neanche nei nominativi che le passo che sia io che lei dobbiamo lavorare abbiamo deciso di lavorare in questa maniera qui per creare anche un po' un filtro perché magari una poi la chiama non ha le idee chiare insomma anche lei è molto occupata si rischia di perdere tempo va bene? quindi chiamate me si fa una chiacchierata si fa il punto della situazione e purtroppo non ci sono tante altre opportunità non ci sono perché tutte le altre cosiddette possibilità di investimento direttamente o indirettamente sono collegate alla borsa e io in questo momento devo essere molto conservativo ecco in quello che in quello quello che vi posso dire esiste un settore che è quello ora ritorniamo al discorso che facevamo prima dei rifiuti in generale questo qui è una cosa molto interessante io ho fatto questa riflessione ho fatto questa riflessione ma il mondo che creeranno loro che vorranno loro quello della grande opera dopo il nuovo ordine mondiale cioè dopo questo grande reset tutto quello che deve succedere sarà un mondo come quello di oggi o sarà un mondo avanzato un mondo tecnologico un mondo robotizzato un mondo guidato da quella che io chiamo la deficienza artificiale con tutte le conseguenze che questo comporterà io sul mio canale di whatsapp ho caricato quando trovo delle cose interessanti e importanti le carico le carico e quindi c'è mi sembra uno dei fondatori inventori della I che è stato il primo intelligenza artificiale proprio recentemente ha detto stiamo attenti perché ci sono ancora dei punti scuri c'è l'intelligenza artificiale dice delle cose trae delle conclusioni che non sono quelle che dovrebbe trarre praticamente lui ci ha detto queste cose qui e poi l'intelligenza artificiale sarà collegata alle armi alle armi proprio le armi cioè la guerra del futuro sarà gestita attraverso l'intelligenza artificiale deficienza artificiale chiamiamolo ecco tutte queste cose secondo me però loro le fanno e prevederanno in futuro un mondo pulito io non posso pensare che l'elite voglia vivere in un mondo sporco appena loro avranno fatto una bella mattanza no quella che nel famoso film come si chiama quello lì tipo fantascienza poi vi dico il nome scusate intanto io le cose non scherzo si parla di grande mattanza no una volta finita quella lì loro la prima cosa che faranno tirare tirano le danno fuori tutte le tecnologie che già hanno per ripulire completamente la terra e trasformare tutto questo purtroppo pattume che abbiamo accumulato in energia perché esistono già tutte le le tecnologie a disposizione una è quella che vi dicevo prima della Conair che usa la pirolisi o pirolisi per sciogliere la plastica e ottenere un olio che poi vende alla shell ma ce ne sono tante di queste cose qui non è che ci siano e molte delle quali sono quasi pulite dico quasi pulite perché quando si usa la chimica o quando si usano solventi o quando si usano insomma cose che non sono diciamo meccaniche inevitabilmente si creano comunque dei rifiuti diciamo comunque sono compromessi accettabili perché almeno si leva la plastica di giro e si vive in un mondo un attimino più pulito ecco io quello che vi volevo dire oggi ve l'ho detto c'è qualcuno che vuol fare dei commenti o ha delle domande prego scusa dottor Max quale sarebbe la proposta interessante della Conair grazie allora la proposta della Conair consiste io allora te la dico come l'ho capita io che loro la spiegano un attimino un pochino in maniera diversa allora siccome le aziende sono consapevoli che ci sarà una sorta di grande risetto comunque un ridimensionamento nel breve futuro delle quote azionarie e nel frattempo sono state inventate le monete digitali cosa hanno fatto loro invece di vendere share hanno in parallelo creato i token i token sono un'alternativa per poter investire in qualcosa che comunque è collegata a un lavoro o a un servizio così esattamente come sono le share per finanziare l'azienda quindi l'azienda può essere allo stesso tempo solo essere solo nel mercato può non essere diciamo in borsa può essere solo in borsa può essere in borsa e tokenizzata o può essere solo tokenizzata sono quello che posso aver capito io queste le variabili la Conair non è ancora in borsa mi sembra che dovrebbero fare il lancio il prossimo anno e quello che si compra sono in realtà dei buoni che si chiamano ci sono i carbon tax per quelle lì generali diciamo in generale si parla di carbon tax si parla di plastic tax cioè dei buoni come fossero dei coupon che vanno a vantaggio che andranno poi a vantaggio di tutte quelle aziende che dovranno produrre dovranno produrre rispettando l'ambiente ci faccio un esempio adesso la coca cola produce i propri prodotti no la coca cola o in bottiglia o in plastica la bottiglia qui almeno qui la usi nel ristorante nel bar la lasci lì e il vuoto viene riciclato che è vetro e va bene la bottiglia è quella che te poi ti porti a casa e che poi butti in terra qui buttano tutto in terra oppure la bottiglia in cestino la bottiglia in spazzatura eccetera eccetera ecco l'azienda si dovrà prendere carico pagando una sorta di quote per la bottiglia di plastica che comunque sia con altra con elevata possibilità andrà a inquinare l'ambiente quindi cosa fa la coca cola comprerà questi carbon tax e soprattutto diciamo le aziende nuove comprerà avranno la possibilità determinate condizioni di comprare queste carbon tax o plastic tax e utilizzeranno questi soldi che poi possono essere trasformati in soldi per ammodernare gli impianti per la produzione della coca cola magari inventandosi un qualche cosa che non inquina oppure semplicemente organizzando la raccolta di tutte le bottiglie di plastica presenti bene poi in realtà loro ti vendono il coupon loro ti vendono il buono del riciclaggio della plastica ma nella realtà consiste in una moneta digitale che si chiama CSR mi sembra che è a tutti gli effetti una moneta digitale quindi un token loro non te la dicono così eh te la dico io così però è così quindi non è che ci sia contraddizione tra le due cose tutto questo ovviamente siccome si parla di monete digitali si parla mi sembra di massima di blockchain ecco l'unico dubbio che io ho perché sapete lo studio che ho fatto sul beacon eccetera eccetera è che ci dicono delle cose su queste su queste su queste blockchain che a mio avviso non sono completamente corrette ma è la mia opinione non è detto che non lo siano e comunque sia non è detto che cioè indipendentemente da chi ha ragione o torto è assodato a mio avviso che uno dei settori più interessanti anche dal punto di vista dell'investimento sia quello dei ricicli no? scusate della raccolta dei rifiuti no? questo mi sembra logico anche perché cosa facciamo ci mettiamo ad investire in armi in aziende delle armi ci mettiamo ad investire in aziende del farmaceutico sono queste le attività più produttive no non lo possiamo fare una cosa così dobbiamo fare una ricerca io ve lo dico perché ho individuato questo settore qui che è anche collegato alla fondazione perché io praticamente raccolgo la plastica dalla terra in qualche maniera si riciclerà quindi è un po' la stessa missione ecco quindi io poi chiamerò un rappresentante di questa azienda che io prima ci devo parlare spiegare per bene queste cose qui come io ritengo che lui dovrebbe presentare queste cose io cerco sempre poi alla fin fine mi tocca parlare tanto no? però alla fin fine cerco sempre di farvi una sintesi cioè di dirvi la cosa per capire bene dove voglio arrivare ecco c'è sono persone che hanno maggiore capacità di fare questa cosa e persone che ce n'hanno meno quindi però bisogna andare al cuore di tutto e il cuore di tutto in base alle informazioni che mi sono state fornite credo che sia quello che vi ho appena detto quindi anche in questo caso qui non è che uno deve fare un investimento di centomila euro uno se vuole ci può mettere qualche cosina anche qualche cosina comprerò anch'io stesso discorso che abbiamo fatto per la Excelior ecco poi magari la cosa va bene se la cosa va bene allora poi uno ci può investire un pochino di più ma questo vale per tutto il discorso delle monete digitali allora le monete digitali la maggior parte delle monete digitali come vi ho spiegato sono soltanto diciamo prodotti del marketing del marketing strategico chiamiamolo così supportate soltanto da ottime operazioni pubblicitarie di asset di base non c'è niente in questo caso invece abbiamo aziende come la Cone che è stata stabilita mi sembra tre anni fa tre o quattro anni fa a Bangkok e adesso ha già una succursale e poi c'erano l'ufficio anche ad Amsterdam mi sembra hanno aperto l'altro anno un altro stabilimento in Finlandia mi sembra che abbiano anche un progetto per l'Africa mi hanno detto Nigeria sicuramente l'azienda grande futuro quindi l'investimento nostro è supportato in questo caso dal valore dell'azienda è chiaro che è collegata a un token ecco io ho cercato di spiegarvi come l'ho capita io anche questa storia dei token quindi come l'altra volta vi ricordate anch'io ero indeciso ma questo token come funziona cosa sono ecco questo è un esempio di come può funzionare un token te hai una cedola una ricevuta una quota di questa di questa azienda qui è di fatto compri un token che un domani se l'azienda va bene puoi rivendere esattamente come rivendi una quota azionaria a determinate condizioni anche dal punto di vista di vista della tassazione è difficilissimo sarà difficilissimo gestire dal punto di vista contabile amministrativo queste compre e vendite giornaliere perché per i commercialisti ovviamente capite diventa una cosa impossibile da gestire perché magari si fanno migliaia di operazioni al giorno e uno che investe e lavora di queste cose qui e poi decide per pagare le tasse capite è una cosa impossibile non lo so faranno una cosa a forfettare immagino una cosa di questo tipo ecco non so se ti ho dato la risposta felice però questo è quello per il momento è quello che ho capito io ho capito ma quindi è praticamente tipo acquistare è tipo un crowdfunding diciamo che tu metti dei soldi in un'azienda dove loro si finanziano e praticamente in base all'andamento dell'azienda avrai un ritorno giusto? no? sì è come se tu comprati un vestissimo nell'azienda in un certo senso sì certo è una forma di autofinanziamento se si va a vedere no? e beh ma al di là tu continui a insistere sulla sull'agendina lì 20-30 ok ma al di là di quello il business dei rifiuti è enorme perché dalla plastica tiri fuori tutta l'energia che ti serve per il resto cioè è questo qua veramente un settore è enorme felice ma io te l'ho detto che è enorme il problema è che fino adesso non te lo fanno fare perché hanno già tutte le tecnologie se volevano ripulivano il mondo cominciavano a ripulirlo 30-40 anni fa ma non l'hanno voluto fare evidentemente per ragioni economiche capito? si dice la stessa cosa ebbè certo ebbè hanno ingrandito la bolla poi arrivano loro e ti danno la soluzione e guadagnano ancora loro cioè esatto è così esatto danno da mangiare al vittellino quando è bello grosso arrivano loro a prenderselo eh sì la maggior parte dei brevetti sembrano che siano posseduti dalla Shell sembra eh mi sembra o mi ricordo chi ne ha parlato però insomma ma sembra eh poi immagino saranno tutti la Shell scusami ma quindi questa Conair è un'azienda americana? no no è un'azienda di Bangkok originariamente ok ma è già compartecipata dalla Shell immagino di sì no 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 non credo che sia compartecipata hanno fatto questo accordo per cui l'olio che ottengono dalla produzione del riciclaggio della plastica lo vendono mi sembra di ricordare ad un euro al chilo alla Shell ah no è interessante quando è che fai la diretta con il l'amministratore il rappresentante chi è il prossimo sabato se tutto va bene facciamo l'incontro con uno dei rappresentanti con lui immagino eh abbiamo fatto una corsa contenuta perché hai capito abbiamo lui farà io gli chiederò in pratica di fare una presentazione generale eh in cui si prende magari cinque minuti con il molto generale e poi di andare nello specifico cercando di essere poi fare una sintesi in cui uno poi capisce quello che compra come lo compra e gli aspetti positivi quelli negativi le problematiche se uno vuoi rivendere questi token chiamateli come volete ecco un corso di questo tipo sì una volta li chiamavano talenti talenti a cosa ti riferisci alle monete no scherzo a livello biblico i talenti è una battuta va bene sì grazie grazie prego un mondo che come vedete sta cambiando ed è inutile io credo insomma chi mi conosce lo sa io sono una persona di principi cioè io non ho voglia sui principi non ho assolutamente desiderio bisogno voglia di fare compromessi per me i principi fondamentali sono quelli e su quelli non si scappa però purtroppo la vita ci presenta continuamente situazioni nelle quali dobbiamo trovare dei compromessi per cercare di vivere al meglio e di sopravvivere al meglio e questo è un po' l'atteggiamento del discorso della mente aperta cioè vedere le cose cercare di appurarle fino in fondo e poi come dicevo prima abbiamo detto che tenere i soldi in banca così non è una cosa particolarmente intelligente cerchiamo di utilizzarli al meglio ecco sempre con l'approccio a mente aperta andando possibilmente più a profondo possibile no? di studiare studiare proprio dedicare tempo approfondire l'argomento nella speranza poi di arrivare a una conclusione e che la conclusione sia quella giusta quella corretta posso fare una domanda fuori tema? sì prego ciao 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 a tutti dunque al telegiornale ieri sera e anche sui giornali ieri parlano del missile euroesnik russo che si chiama nocciola no? e Carlo Parlemo diceva che nocciola è una cosa massonica e vuole dire il nocciolo della questione così volevo una tua insomma la verità ecco cosa ne pensi di questa cosa o no? guarda ho sentito quel commento lì però non ci ho avuto tempo di approfondirlo e non voglio dirti adesso una cosa se non non ho idea chiare non ho sentito la cosa però posso dirti e quindi mi dispiace non ti posso dire granché perché non ho avuto tempo di ragionarci e quindi non ti vuoi dire niente però quello che posso dirti è che nell'intervento di lunedì ho deciso di analizzare il famoso video che mi hanno andato l'ho già fatto mercoledì se ti ricordi non so se sentite l'intervento in maniera molto così ostemporanea adesso se c'è un po' di tempo nel fine settimana me lo rivedo e lunedì sera sulla rana libera farò punto per punto evidenzierò quegli aspetti che secondo me diciamo o che potevano essere spiegati meglio o che comunque magari ecco sono degni di nota faremo naturalmente dei commenti farò dei commenti in base all'aspetto simbolico eccetera 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 ecco credo che sia una cosa un pochettino più dettagliata rispetto a quella tenendo presente che i pubblici diciamo così cioè chi mi ascolta magari il mercoledì e il sabato c'è gente che in linea di massima mi seguo da messi tante volte lunedì ci sono persone che non mi conoscono e può risultare noioso capito fare un intervento senza che uno sappia niente di simbologia senza sapere chi è Carlo Palermo senza sapere chi è come si chiama quello lì il giornalista oppure quell'altro insomma il massone è capito cioè rischia di divenne purtroppo tanto gira ricordatevi gira 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 che ti rigira alla base di tutto se noi non conosciamo la simbologia no rischiamo di non capire assolutamente niente io questo state certi questa è l'unica cosa che vi dirò finché campo perché questa sono i segreti ovviamente della massoneria che loro giustamente si tengono gelosi e loro non ne possono parlare e quindi anche tutti gli interventi che possono fare i massoni in video o in audio quelli che siano sono tutti molto limitati perché dalla massoneria non si esce quindi non troverete mai un massone ci sono casi molto molto particolari che sono quelli menzionati nella trilogia a un certo punto questo è successo a Jordan Maxwell è successo a Eustace Mullins è successo a tanti altri autori però poi gira hanno tutti fatto una fine insomma non da eroi ma purtroppo da traditori capite ecco in parte gli hanno dato la possibilità di farlo perché c'è sicuramente una diciamo anche lì una un gruppo all'interno delle massonerie come succede nel Vaticano ci sono tante anime stessa cosa succede in tutti i gruppi c'è probabilmente diciamo il gruppo più liberale più protestante quella di Pilgrim quelle che hanno originalmente diciamo sono scappati dall'Europa per creare il nuovo mondo ecco tutte questa gente qui gente magari un po' più a mente aperta diciamo così che le hanno detto vai vai lui racconta Jordan Maxwell racconta anche proprio questo episodio qui che a un certo punto lui si è reso conto che lo sapeva bene ma lui sa i romanzi anche lui un po' le cose si è reso conto che c'era gente che lo proteggeva perché se no non avrei potuto fare assolutamente niente di quello che ha fatto per esempio quindi anche questi che poi vengono intervistati e adesso questo erario come si chiama dice che è il consulente di Carlo Palermo per la simbologia io quando ho sentito una cosa così mi sono messo a ridere sa voi che le dica a Carlo Palermo di simbologia non gli può dire niente è sotto segreto massonico lui è insonno anche nel video per esempio lui ha detto che è uscito una massoneria no? no no non si esce dalla massoneria si mette insonno e uno che è insonno dorme e quando uno dorme non parla non può parlare si dice insonno perché quando uno fa l'iniziazione si dice che durante l'iniziazione gli viene levata la benda quindi da una situazione in cui è completamente cieco vede la luce ecco quella è il momento chiave dell'iniziazione massonica quando uno si rimette insonno ritorna nella situazione della benda che non è solo sugli occhi ma è anche sulla bocca perché uno se ne deve star zitto non può dire niente ecco io faccio un esempio io sono sicuro al cento per cento e chiedo Venia se mi sbaglio che il signore Ranio come si chiama quel signore lì non ha mai letto Dora Morale in Dogma che è la Bibbia delle Bibbie massoniche ecco quindi io uno che non legge la Bibbia come fa parlare di religione e di cristianesimo ammesso e non concesso che nella Bibbia ci sia scritto di religione Mauro Billigno ci ha spiegato tutt'altro ma facciamo finta che sia un libro religioso non può parlare non può dire assolutamente niente cioè conosce soltanto quelle cose che gli hanno detto così ecco per darti la risposta Duilio ecco posso dirti diciamo è un po' tutta una cosa così e quello lì della nocciola se non mi se non mi sbaglio l'hanno detto proprio in quell'intervista lì o sbaglio sì l'hanno detto in quell'intervista lì dove l'hanno detto l'hanno detto in quell'intervista lì Carlo Palermo ha detto che sì ecco sì e poi dopo due giorni su tutti i giornali se puoi andare a vedere e ieri sera al telegiornale hanno detto no non vi preoccupate quel missile di nocciola non farà del male a nessuno Tg1 è una roba leggera e l'hanno chiamato nocciola allora io ho preso Oresnik sul traduttore russo ed è nocciola e allora volevo solo sapere se è vera questa cosa che sarà il noccio della situazione c'è l'interpretazione di Palermo è giusta ecco così è una curiosità sicuramente poi sai anche le parole possono avere un significato diverso ricordiamoci anche questo capito però ritorna ritorna tutto non mi meraviglia che sia che abbia un connotato massonico perché la Russia moderna moderna è stata costituita ma anche quella devo dire anche quella da massoni perché il simbolo della Russia è l'aquila bicefala quello è il simbolo del trentatesimo grado del rito scozzese delle sovrastrutture no? quindi è più chiaro di questo però purtroppo Palermo queste cose qui non le sa e rari evidentemente se le sanno gliela dette e lui ha fatto un commento sull'aquila bicefala che poi non si è capito niente poi ha parlato di come si chiama quel posto Piana degli Albanesi come si chiama in cui ha trovato quel simbolo lì Piana degli Albanesi dove c'è stato la Portella delle Ginestre dove l'hanno ucciso per la prima volta Portella delle Ginestre Portella delle Ginestre Albanese ora io non ci ho guardato in questa cosa vado a intuito eh vado a intuito anche in questo caso qui perdonatemi se devo andare a controllare a sensazione così lui ha trovato l'aquila bicefala perché l'aquila bicefala è anche il simbolo dell'Albania e questi questa quella zona lì si chiama non a caso eh degli Albanesi perché lì ci deve essere stata una comunità che a un certo punto è venuta all'Albania ha preso il nome degli Albanesi e ci hanno portato quindi il loro simbolo non ci incastra niente la Russia cosa c'entra la Russia Palermo bisogna studiare un po' un po' di più la trilogia se leggi la trilogia Carlo ti assicuro la digerisci bene che tutte le tue angosce spariscono in un batter d'occhio via lo dico perché ti voglia anche bene non me ne frega nulla che tu lo dica che la leggi in pubblico non me ne importa nulla ma leggila perché c'è qualcuno che può mandargli questo messaggio glielo dico per il suo bene quando uno digerisce la trilogia vede le cose in maniera molto più chiara si mette l'animo in pace non ci sono più preoccupazioni digerisce il malloppo che in questo momento ce l'ha lui qui sullo stomaco non va nessuno giù ed è comprensibile perché è un po' la situazione di tutti quando siamo di fronte a un pericolo che si percepisce un pericolo e non riusciamo a capire la soluzione siamo tutti in angoscia perché non si capisce che cosa sta succedendo quando si capisce almeno abbiamo preso conoscenza consapevolezza di quello che deve accadere e già quello è un passo avanti diciamo per trovare una situazione un pochino più confortevole questo è in tutte le cose della vita l'incertezza situazioni in cui non sono chiare sono situazioni particolarmente stressanti per tutti come è fatto a venirti quella cosa di scrivere la trilogia cioè è venuta al momento giusto e ci sono scritte tutte le cose che stanno succedendo adesso che stanno cominciando a dire adesso che diante cinque anni fa mi prendevano per matto per la terza guerra mondiale ma te Duilio mi vuoi bene però mi fa che sei illuminato da questa cosa cioè sei stata una forza occulta non occulta qualcosa che ti ha fatto scrivere queste cose è bellissima questa cosa veramente ma te Duilio Duilio mi senti? sì che ti sento è certo ecco ti ho chiesto mi vuoi bene vero? mi mangiano tanti cuoricini tutto e allora non le dire queste cose qui in diretta perché poi magari qualcuno qualcuno se la prende a male vabbè è che vivo in Tanzania e sto comunque tranquillo io posso morire anche domani ho detto qualcosa che non va bene? no quando dico come battuta no siccome stai stai confermando capito quello che io ho scritto e quindi poi c'è anche tanta gente che diceva ma questo guerriere cosa ha scritto? fai un po' andare a vedere quello che ha scritto e sono convinto che agli altri livelli seppur possano apprezzare quello che ho scritto e sai quando poi tiri fuori certe cose hai capito? io ho ricordato che il 50% degli autori che menziono sono morti prematuramente chiedo scusa allora non fai finta ma no va bene dai va bene va bene non ti preoccupare ho detto come battuta ok dai bene intanto grazie per quello che fai grazie va bene benissimo altre domande se no chiudiamo qua per oggi vi ricordo gli appuntamenti per lunedì come abbiamo già detto alle 21 e poi mercoledì per il solito appuntamento con destinazione Tanzania e il sabato per il solito chiacchierata sul discorso dell'oro quando probabilmente avremo un ospite che vi dice va bene io sto già poi ve lo preannuncio lavorando con un'altra azienda dell'oro non voglio ancora dire niente eh che probabilmente è molto simile a Uvesta però offre delle soluzioni appuntista pratico offre delle soluzioni che per per certi aspetti possono anche essere altrettanto interessanti perché è sempre importante continuare la ricerca e mai fermarsi bene se tutto va bene vi presenterò questa azienda qui tra due settimane e inizieremo con loro ripeto se tutto va bene perché ci sto ancora parlando sicuramente nel 2025 anche lei farà parte del gruppo diciamo di consulenza va bene io auguro a tutti un buon fine settimana e ci sentiamo alla prossima grazie ciao grazie a trattato buon weekend ragazzi ciao 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 ciao